Davide Centioni, non so se tu abbia ancora voce, ritengo che questa sia la vittoria più importante del campionato del Real Montecondo Scalo. Beh, sicuramente sì, è stata una vittoria fortemente voluta, veniamo da un percorso ormai lungo quasi un anno, oggi ho detto ai ragazzi non so quante ore di allenamento abbiamo fatto in un anno, oggi era il momento di tirar fuori e di dimostrare quanto abbiamo voglia di rimanere là, di lottare, oggi abbiamo fatto una partita incredibile ai ragazzi, penso che se non ci fosse stato quell'episodio di provocazione con la doppia espulsione non avevamo subito fino a quel momento un tiro in porta, quindi insomma abbiamo fatto una grande partita di grande attenzione, di grande concentrazione, di grande intensità e anche di qualità, niente da dire, è la partita perfetta. Ho detto ai ragazzi noi arriviamo lì, facciamo il nostro, poi alla fine tiriamo le somme, certo che un giorno di ritorno non abbiamo perso uno sconto diretto e abbiamo vinti tutti e questo è sicuramente un dato molto importante. Ma è stata una partita combattuta, una partita che comunque si poteva risolvere su una giocata, loro l'hanno risolta su una punizione, poi logicamente il calcio di rigore che da una partita non so se c'era o non c'era, però la data è giusto che poi si va a giudicare questo. Sono andate di doppio vantaggio, poi logicamente le espulsioni, in poche cose siamo riusciti a riaprirla, abbiamo avuto pure l'occasione con Giambetti di andare a pareggiare. È stata una bella partita, maschia, combattuta, logicamente noi sotto il piano dell'agonismo potevamo fare qualcosina di più, quello è assodato, però è stata una bella partita. Stefano adesso, realisticamente parlando, con cinque punti di svantaggio rispetto alla Tino a Florida e tre di vantaggio sullo scalo, da chi bisogna guardarsi o a chi dovete guardare? Io penso di guardare dentro casa mia, perché comunque sia domenica e mercoledì si rigioca, abbiamo un'altra partita importante con l'Univo Mezza, che possiamo andare a due punti, possiamo rimanere a tre punti, possiamo ribartare tutto, quindi dobbiamo pensare a noi, abbiamo quattro partite, queste quattro partite sia in un modo che nell'altro devono indirizzarci in un finale importante, perché comunque sia è vero che fino adesso abbiamo votato partita dopo partita per il primo posto, ma io penso anche arrivare ai secondi non è da sottovalutare, quindi dobbiamo fare queste quattro partite al massimo delle nostre forze. Grazie